Ciao a tutti, bentornati su Lissa ASMR Anche oggi, come tutti i giorni, un nuovo video Continuiamo con la lettura del fantasma dell'opera Se siete nuovi sul canale, io vi invito ad iscrivervi Se vi piacciono appunto i video in Audible, whispering e anche tracing spesso sulle riviste Potete lasciare un like e un commento se vi va di supportare il canale Allora, continuiamo Eravamo arrivati Abbiamo finito la capitola 2 Partiamo con la capitola 3 Dove De Piene Poligny Rivellano i nuovi direttori dell'opera Con la Charmaine e la Richelle Per ammettere l'occhio della loro dimissione Tra l'altro, siamo svolgati alla Germania di Addio Come ho già detto, con la festa magnifica Raffrontata in occhio, l'ora di all'opera De Piene Poligny Che avrò deciso di finire Come oggi si vuol dire in bellezza L'alertizzazione di quel programma ideale e funebre erano un'attività di tutti quelli che contavano a Parigi Sostanteva orne alle arti Tutto quel l'acente si è arrivato a puntamento della foglia della tassa Dove la sorella con una coppa di champagne Un discorsetto preparato sulla ponte della lingua Stava aspettando addirittura di missionari Dietro quell'acente si è convaino al corpo di Poligny Sostante che i giovani si accalcavano quando discutendo un passavoce sugli avvenimenti al giorno Altri, i miei discretamente incenditi da loro amici La cui arca non circondava il bambino E si amava il bambino di libera impendenza tra la danza guerriera e la danza campestre di Polange Qualche ballerina aveva già usato in domenica i cittadini Soprattutto per te però aveva ancora la colla di alza del cielo Tutte le mie case fanno ridere il tubo rodova per riporreggio con i giovani Tutta la piccola danza da un uomo Che qualcuno ci provo a essere sempre facendo Fermaticato nella loro specializzazione E' da felice Quando sono portati sui sabburi La venuta si chiamata per lontare Salterla su carri di ogni e l'altro Sì che quando non si piacerebbe il bambino Ficcio la loro apparizione segretiva nella foglia della danza Prima di mangiare per metterlo Fermatico alla loro dispazientità L'ultimo parchi di retto di missionari Non aspetta l'euro cosa che può evitare Non sarebbe passato a maturare a nessuno Ma che pareggia fortunanza di buon gusto L'assistente del bambino Però pareggia dipendendo che non si imparasse Un rapporto Una maschera di gioco Proprio dolore Le cagocchie della tristezza Se non l'altro l'indifferenza Sulla probabilmente i miei gremi Se potete chiamare mai cosa soffrendo Non tentate di consolarli Vi dirò che lo è già E se gli è capitato qualche po' che sta avendo Quando ti prenderà a congratularvi con lui La sua buona vita di sembra così naturale Che servirà se qualcuno gliela fanno dare Appreggia stessano le pelle in maschera E per tanto così esperto Come di bene i poleghi Non l'avrebbero mai commesso E con l'errore di manifestare loro di spingere Che ero utente con un posto come la buonetta della tazza Le soldi in gioco troppo La sorella che cominciava a rasciare Il suo discorso di saluto Quando potessero con la pazzella Dicenze Lo sembrangelo Il suo territorio In un modo così brutale Che la sottotente maschera di isolazione E disporzando il bacio Potentemente gli occhi di tutti Il fantasma dell'opera Ciamava con la lulla Frasando l'indicibile terrore Il suo discorso indicava nella volta Che gli abiti da sera Era così morto Quello corpo così brutto Teneva un pochi di larga Di sopraccigliare Così brutti Che quel discorso indicava Tutto Un immediatamente successo insensato Il fantasma dell'opera Il fantasma dell'opera Che rideva Che si spingeva Che voleva offrire dappare Il fantasma dell'opera Ma questo era scomparso Se ne siamo andati alla forna E poi lo siamo andati a ritrovare Tra tutti i vecchi signori Cercavano di calmarla La piccola Ciamata la piccola Ci rinanzava come un pavone La sorella era curiosa Il mio discorso Deppine a volentile Aveva una bracciata E ringraziata E aveva scappato Con la stessa rapida del fantasma Da solo saggio C'è chi si sapeva Che non aveva raggiunto E gli abiti Ma il piano superiore Del fuori del canto E che la vina Aveva ricevuto Dall'amici pittime Per l'ultima volta Nel più altro Della serra dei direttori Per l'attentato della regina Nella caliera Troveremo con il nuovo direttore Che eravamo Conciermati I primi conoscenzi I primi conoscenzi Continuamente Si profondano Un'altra grande attenzione Amicizia E questi Questi I primi ricambiarono Comprie le conferenze Dopodichè Quell'ora che vuoi Ricambi Ricambiarono Comprie le conferenze Musiche Che eravamo andando Dall'attore del controllo Questo anno Un'ultima Vedo Faccio E' un'unico Quell'ora il governo della credenza di una sensazione abitata in risolta contro la domanda la commedia dell'indicona governativa con verità risuose così gran, dalla parte della nostra, che per i diritti sia un momento a prendere che il trovare quella sarebbe avrabile contro i dirattori tanto assortenti. In confini alla politica Europa, come di averlo, un sherman per partire gli autobus piccoli chiavi, in post-bordurali le porte della chiamasse per la giornata con sicunere in bianche migliaia. Prontamente quelle piccole chiavi, certo che in un risaggio generale passano fuori fuori fuori, allorché l'attenzione a qualcuno fu distrata dalla scoperta e l'estremità della tappa di volantrano è molto fantastico fantastico mondo per ogni nome che era già partito fuori dalla tappa che era stato saluto dalla piccola John Conquistapostro il fantasma dell'opera era là come piccolo invita salvo che non vogliava non beveva quindi che non cominciava a guardarlo sorridendo uno finito per il giro di altro altrui tanto quella di se richiamava subito alla mente i pensieri più funebri c'erano solo ripetere la parola per la battuta che fuori in un anno di nuovo e col per basma dell'opera non aveva parlato dell'opera e se si è diventato non avrebbe potuto finire con le principali se ne potrebbero andare fatto con dolore in modo di pensare che i morti tornavano a talvolta a stare insieme e stati vivi non potevano esibili un viso più magro e poi gli amici di armone e porciermonti e per me non mi ha creato quello scarno commensale fossi in mente piene polinie mentre gli amici di piene polinie pensarono che quel cadavere portasse la canzella di Richard Muncher per me di modo scena ho una richiesta di di spiegazione tutta piccola riflessione di modo che una richiesta di spiegazione di violente c'erano invece di significativo questo rischiare di difendere con l'ospedale l'ultratombo alcuni compitati al guardato le mie lo salvato come della discrezione che le ha dato la capomacchinista e chiamano ancora la morte di i suoi buchi pensavano niente che la mamma della tazza sarebbe potuto benissimo pensare per le carnici e per il personaggio creato il loro giudizio e le correglie per le posizioni personali e l'opera tuttavia secondo la legione del fantasma dell'opera e quindi la mamma della tazza e la madre e l'opera ma non c'erano come sarebbe trasparente o no no e l'averello costituito e la madre 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 non puoi non porterà e le proporzioni e la madre e il figlio e l'ipto secondo me non con la prima nera, non posso fare meno di riguardo alla confidenza che le signore dei pillani e i polini ci fecero nel loro studio nella presenza della nostra città, quel fantomatico indietro che nessuno di voi conosceva ecco che cosa accadde esattamente, queste piene polinesi nel centro della tavola, no, non avevo ancora non avevano ancora 3, 9, 10, quando proprio lui mi ha improvvisamente parlare e gli avevano ragione di essere l'amore della pavola, perché forse, fatto così naturale come sempre, questi piene polinesi soppazzarono, perché è morto, sclamato, si, applicò tranquillamente quel ovo, quel ombra d'uovo sono trovati un'implicato quest'era, per l'altro lato manco per lo spaccato dei giorni, per l'armadera loro i due diritori, i ex diritori di torno, bruscamente, vi sono andando per loro, interlocutori, erano precisati, quanto vuole ragione volevo dire ripetere quali sono ragione, certo dopo una nuova scolimpicazione di un nuovo capo macchinista, scappare uno sguardo e non andate più a palle di vincencio, avviene più efficaci, signor Richard Mosham, voglia di pronunciare qualche parola di scusa all'indirizzo degli invitati non è contento dell'ergo in un'efficiale direzione e alla parola sciola per l'amore e alla parola scienella e alla parola scienella ci pareva che dovessero direci qualcosa di un vero ma moltissimo dai primi cichi rosi conoscevamo indietro all'esternità della tavola che le aveva informati all'amore di ciose bughe e dopo la nostra risposta negativa si mostrano un colpito urbato e preso il pass per tutte le nostre mani e considerarono un istante scuolarono il capo quindi scuolarono i serraturi e al massimo segreto per tutti quegli appartamenti e stati fino a oggetti che desideravano tenere empaticamente sotto chiave diventando questo anno così buono scoppiando a ridere e chiamando loro che ci fossero per causa dell'altro all'opera e rispondere che c'era qualcosa di peggio il fantasma, che invece può ridere e preso di che si essessero coincidato un male pur l'accornamento di quella intima vestigio poi di per loro insistenza su me continuarono con il mio saluto e deciso ad entrare per per loro piacere con il mio saluto di gioco ci dissero che non ci avrebbe mai parlato del fantasma se non ci fosse rincipato il fantasma sia sull'ordine formale di indorci con stracci gentili con lui e a concentrare tutto quello che ci avrebbe chiesto davvero fin troppo felice e le fanno cambiato spadronizzava con lo spettro tirannico a disbarazzarne così di colpo fosse stato un po' in un momento in un'altra cosa non vengono tanto curiosa alla quale i nostri amici scendi che non erano certamente preparati quando avvengendo l'amore e i suoi bucchi a valore bruscamente rammentato che in qualche modo non avevano impedito il desiderio del fantasma quindi quando pensare il fantasma arrivava subito per il conto del senso lui la dipendenza è un grande condizionale grandissima produttore la confidenza più e più importante che cosa era con Richard quando era studente aveva avuto una reputazione di bullone vale a dire che non gli ha lavorato solo che le mille tra un'opera c'è un'esercizio perché avendo in giro e i portieri con le persone sceglie sanno qualcosa così che si amava apprezzare molto il petto che gli stavano servendo su volta non ripetendo un po' con le pelle il condimento fosse un po' manca per caso il mondo di bocchè il conto della testa tre se resti meglio il suo viso ma non possono che gli altri parla il porto del mondo si occupa quello che si armonica sempre mesi con l'incarico dell'opera ora che sapeva che dentro c'era un fantasma la potrà farti venire in grattissimo e disperato pur ma che le persone siano si rivolze alla fine potremo fare almeno di copiare tra gli sottornosi e di bianipolini ai quali vedeci passare più scambi perché in un mondo andando con le sottanze più solenti ci copia il giorno come se ci credessero i passivi cioè che la pausa sta faturando un po' troppo un rischio di mondo e mi do sul servo da peschizzo ma in fin dei conti che cosa vuole questo fantasma? un po' di zira se forse lo sottolinea torna con il capito il regolamento il regolamento comincia con queste parole che la direzione dell'opera è sottotante nelle rappresentazioni dell'accademia il regolamento che si conviene con il regolamento francese in termine con l'articolo 18 così concepito il presente privilegio potrebbe essere revocato il regolamento secondo le regolamenti di disposizione questa copia diceva un charmant rischiettano gli altri niente conforme a quella che noi possediamo tuttavia notavamo che nel momento che ci sottolinea il signor guardava un calcio che aveva messo scritto con un chiuso rosso e aveva fatto una misera addormentata come se fosse stata tracciata con la capocchia di un fiammifero la scattura di un bambino che aveva messo per le haste che non saprebbe ancora rinaggere i suoi caratteri questo capoverso prolungava così per ripensare la mente all'alcolano mandato diceva testo umbette infatti altrettata gli altri 15 giorni del pagamento della misera ne ha dovuto alla fantasma dell'opera in salita fissata fino a 1 ordine a 20.000 franchi 140.000 franchi anni il signor Bonnini quando tu esitati giocato con la clausola suprema e di certo non ci attendevamo tutto qui un volato tutto quanto risciacola il più grande sangue freddo si replicò Poligny continuò a sbagliare l'alcolamento e disse articolo 63 che le grazie per quanto il braccio da testo e non per una fila primordine sarà riservato per tutte le rappresentazioni al capo dell'alcolamento della percaccia dalla fine del mattino al parco numero 3 al primo ordine per cui i filiati saranno a disposizione del ministro al parco numero 27 al secondo di essere il fatto non sono i preferiti alla senata di polizia e ancora alla fine con l'articolo il signor Bonnini può fare che l'inchiostruzione grazie all'aggiunto al parco numero 3 con il primo ordine sarà messo per la presentazione a disposizione del fantasma dell'opera il palco numero 3 dopo che quest'ultima stocca non potremmo fare meno che la targia si distruggiava calvosa manchile amare i nostri più accessori che ho creaturato il giacolo per aver architettato con la legge della facenzia con la prima macchina che più raggese non poteva colpe e lasciarli alle percine che ora capiva perché di pieno polizia non era proprio possibile lavorare con un fantasma tanto e fiacciante proprio così era piccolo senza battere i cilipollini non c'entra cura nella fretta ma si trova sotto un ferro di cavallo per esempio qualcun anno quando c'era una fitta al palco numero 5 del primo ordine è salvato il fantasma dopo la presentazione senza contare che ci sarete rimborsate pure l'ambiente spaventoso quello che è certo è che non abbiamo interesse lavorare per mantenere i fantasmi preferiamo andarcene sì ripetevi bene preferiamo andarcene andiamocene esatto ma dove? come scavarlo ancora? non l'abbiamo mai visto nemmeno quando viene nel palco non l'abbiamo mai visto nel palco allora avvitatelo 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 il palco è un tanto dell'opera bene signori per farci voi dopo di che usciamo tutti in quattro dall'ufficial direzione Richard ed io non avevo mai reso tanto allora abbiamo terminato anche con il capitolo 3 nei prossimi giorni continueremo ancora con le fantasma dell'opera ma noi comunque ci sentiamo domani ciao ci sentiamo domani ciao 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 ciao